A questo punto non devo neanche mettermi a comprare la roba migliore per i nostri compagni. Avenderemo la battaglia più difficile, però probabilmente poi dopo quella battaglia ci sarà un'altra battaglia in cui saremo tutti uniti e sarà più difficile perché non avremo gli oggetti unici. Questa è una novità, questa è una grande novità gioco, visto che sono la cosa più difficile da ottenere in sto cazzo gioco, non solo il DLC tutto. Gli erubini sono la cosa più bastarda da ottenere in sto gioco, dammene tanti, tanto pale diamante e ormai so dover recuperarli. Quindi la squadra è divisa letteralmente, abbiamo Fuka che non ha idea di cosa fare della propria vita, loro due che vogliono tornare al passato, Junpei che non vuole fare nulla, starà dalla parte del vincitore sostanzialmente, loro due che non vogliono cambiare il passato e noi due, lei che tanto sta dalla mia parte perché sta dalla mia parte e fine. Ma scusami se vado giù da solo non è il momento, ok. Non riesco a capire cosa passa nella mente di tutti, però sorella non devi farti sovrastare, ti proteggerò io al posto loro, costi quel che costi. Appena ce ne andremo saremo tutti divisi, dopo questo punto non potrai rivedere i tuoi amici, vuoi proseguire? Insomma, salva. Andiamo. Ok, allora seguimi. Cos'è l'arena di combattimento? Ma cos'è c'è dietro? I campi Elisi. Dall'altra parte. Ma cosa sei? Cos'è il gladiatore? Oh, come siamo arrivati a questo? Eh beh certo, non penso che indichi il fatto che una volta sconfitti gli altri creperanno, ma credo che il vincitore avrà il diritto di scelta su tutti gli altri. In sostanza, vinceremo noi e sceglieremo noi. Invalidarli non vuol dire fallire. del male. Ho un po' di dubbi su questa cosa, forse sì, forse no, ma credo che lo sto dicendo solo per spronarla a combattere. Eh esatto. No. Il potere o tu risvegliata letteralmente, intendi? Condurci tutti fino a qua? Non lo so, siamo proprio, ok, quindi immagino, esatto. Ah no, posso uscire eventualmente, nel caso tipo tu volessi cambiare le persone, esatto, immagino. E Fuka è da questa parte. Una nuova porta, ci porterà dove dobbiamo combattere, che cosa faccio? è quello che devi. Si va a fare a botte, no? Se varco questa porta dovrò affrontare i miei amici. Andiamo. I miei amici sono il mio potere. Questo è... Tu sei qui, Sanata, che potrei spaccarti con un colpo, vero? Tu lo sai che ti potrei ammazzare con un colpo, vero? Cosa fa l'arbitro, lei? Mi sembra giusto. Sì, ma tu fai schifo in sto DLC. Porca troia, fai qualcosa di utile almeno. Io avrei preferito, come ha detto Metis. Io avrei fatto che ha, come ha detto lei, fallo in modo equo e fine. Vaffanculo, cioè. Ancora no, onestamente. Cioè, io sì, ma penso lei che ancora no. Ma. La musica è proprio bella. Eh, mi sa proprio di Nofuka. Tattakai sì. Quindi Sanada e quindi Ken. Se tutto va esattamente come dovrebbe essere, in teoria, lui è debole al buio, lui è debole al ghiaccio. Combattiamo come se dovessimo combattere per davvero. Hanno un sacco di vita, ovviamente. Ma se non mi è manco colpito ancora. Merda. Oh, meno male che... Meno male che è stato stupido, Amada. Ero io che ero debole alla luce ed è l'unica debolezza che ha Tanatos. Mi spiace. Guarda, lo immaginavo. Arrivato a questo punto lo immaginavo tantissimo. Va bene. Combattiamo come se dovessimo ammazzarci a vicenda per davvero. Magazzi, Zanagi! Quale persona migliore se non questa? Però non gli fanno gli stati, mannaia. Ok. Carico. Però forse dovrà uccidere prima Ken. Forse dovrà uccidere prima Ken, sai? Perché forse... Ah... Micchia, ma noi siamo bravissimi. Ah, la cura. Forse gliel'hanno tolta per non allungare inutilmente il combattimento. Ma forse mi dovrei concentrare di più su di lui ora. Useranno le loro teorgie? Secondo me sì, eh. L'ho appena detto, eh. Micchia. Ah beh, certo, perché avevo Thanatos. Fanno pure gli scambi, grandi. Eppure. Merda. Finchia. Devastati con un colpo. Oh, bella combo, ragazzi. Complimenti. Cura Aegis, per favore. Eh, è troppo tardi. A parte che è cretino questo. L'ho usato sulla persona sbagliata. Si sta caricando anche la sua di teorgia. Andiamo con Norma. E curiamoci. Ho fatto benissimo a fare una persona che ci curasse, madonna mia. Ho fatto benissimo. No, 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 no. La tua teorgia mi dispiace, ma non la voglio usare. Perfetto. Ah, bravissimo, Ken, che così ci boosti anche a noi. Ah, niente pugno di Dio. Tatti, sta bene. Scemo. Dunque. Quindi le difese sono ancora diminuite. Perfetto. Allora permettimi di giocare sul pesante. E addio a Ken. Ora fa la teorgia. Ah, invece no. Beh, Metis è caricata. Se facciamo lo scambio e le boostiamo del 40% l'attacco, l'ama turbinante dovremmo finire. Quasi. Quasi. Carichiamoci ancora una volta. Non penso che ci serva, però facciamolo. Eh, lo so, lo so. Quale? Ok, usa la seconda teorgia. Quella più forte, ovviamente. Porca troia, che male. Sanada, sei stato bravo. Hai combattuto benissimo. Ma credo sia l'ora di terminare questa faccenda. Metis. Distruggi. Bravo Sanada. Come si rispetta un grande senpai. Sanada-san, Amada-san! Ok, questo è stato inatteso. Ah, questo... Cioè, in sostanza, dobbiamo menare le altre due per deciderci, no? Lei ha detto qualcosa su Sanada-sanpai in giapponese, ma noi non lo sappiamo, ovviamente. Proteggere mia sorella. No, addirittura. No, addirittura. No. Poverella. Poverella. Cioè, ovviamente è rimasta di merda. La battaglia è iniziata, devo salvare i miei amici sconfitti, devo combattere e non ho scelta. Ah, perfetto, grazie che ci hai fatto uscire, ma ci siamo ricaricati. Ok, quindi in tutto ciò combatteremo anche contro Junpei e Koromaru oppure no, alla fine? Se varco questa porta dovrò affrontare. D'accordo. No, invece devo. Non me l'aspettavo, onesto, pensavo si sarebbero tirati indietro. Eh, come deve andare. Junpei-kun, Koromaru! Sai che sarei quasi tentato di perdere, tra virgolette? Credo che non lo sappia ancora. Cioè, allora se ci pensi... Allora, potrei ascoltare quello che ha da dire Junpei, ma se ci pensi alla fine stiamo facendo questo combattimento contro... Sanada e Amada che non vogliono cambiare, Yukari e Mitsuru che vogliono cambiare, Junpei che ora ci dirà quello che pensa, e noi. Noi siamo per la libera scelta, quindi quando avremo vinto, perché vinceremo chiaramente, avremo la libera scelta. Fare la cosa giusta o fare l'altra cosa. E qual è la cosa giusta in realtà? Quindi possiamo prendere e andarcene o prendere e entrare nella stanza. Junpei, dici le tue motivazioni. Ho pensato comunque anche per la verità. E questo, come... E non c'è un problema che vogliono decideremo che noi, come dovrebbero essere capito? Non, non c'è un problema di cui dovrebbero essere capito? Sì, quindi... E questo, come noi, che... Sono potrebbero tornare e non potrebbero ancora una buona scelta, Ah, hai ragione. Fa per aiutarci Questa è la sua motivazione Koromaru Beh neanche tu lo sai Cosa è la cosa migliore Sai che vuoi solo aiutare E questa è la tua decisione Loro sono qui per aiutare In sostanza Il loro partito è il partito dell'aiuto Comunque la musichetta di questo combattimento è bellissima Ma certo Eccolo La musica è veramente bella Sì e sicuramente Noi non stiamo facendo la cosa giusta Sono indeciso su chi dei due Uccidere prima sai Perché Junpei potrebbe curarsi Con la sua teorgia E allungare lo scontro Più che altro L'abbiamo bustato con i critici Quindi dobbiamo Colpire forte Eh mi spiace Koromaru Vabbè Farò la cosa giusta Non utilizzeremo Attacchi divini Non contro i nostri compagni Perlomeno Frecce splendenti Bellissimo Koromaru Lama turbinante No La rimonta di Juffei Eh Baobau Sembra ancora pieno di energie Da quando Ghigno crudele Koromaru Vicchia Spero che salvezza funzioni Porca troia La paura Grazie Eh mi tocca Minchia Junpei che Che ha tirato Una slecca Pazzesca Aia Ma da quando Koromaru Ha ste abilità Scusami Scusa un attimo Koromaru Io ti voglio bene Ma da quando Tu hai Queste abilità Ce l'aveva Ghigno crudele Adesso che ci penso Mi viene studo Più che in realtà Sai che no Allora Io vado un attimo Di cure Ma giusto Per stare tranquilli Non peraltro Questi tre turni L'abbiamo proprio spregati Ottimo La carica Non si è disattivata Perché Lui ci ha ridato Dietro il colpo Ok Usiamo anche Quest'altro turno Per Gustarci di nuovo Ah ma no In realtà Che scemo Che scemo È vero Non abbiamo perso Il turno E che ce l'ha ricaricato Fuka Un cretino Beh mi sembra Giusto Bravo Coromaru Mi spiace Carica sprecata Ti voglio bene Junpei però A questo giro è proprio cannato Lama celeste Eh lo so Mi spiace Coromaru È l'ora di finire Coromaru Mi spiace Da quando Ci rimonta Pure il cane Cioè va bene Lo scontro E tutto quello Che vuoi Ma da quando Coromaru Ci rimonta Da quando Oh è stato Più difficile Questo scontro Con Junpei Coromaru Che quello di prima Ma in realtà Ti devo dare Tanto credito Junpei Hai resistito Tantissimo E ancora Non vuole usare La sua teorgia Beh Speriamo Di fulminarlo A sto punto In teoria Dovrei finire A meno che Coromaru Non ci tira Una slecca Di nuovo No Forse è meglio Non rischiare Sai E addio Junpei Ti vendicherò Fratello Lo spirito Combattivo Di Coromaru È tornato Ad ardere Muori Mi spiace Ok Noi facciamo La cosa giusta Salvezza E picchiamo E picchiamo E picchiamo Inferno Inferno Adirittura Perché C'hai Abilità Che non hai Davvero Valedetto Cane E ti voglio Anche bene Polvere Di diamanti Speravo Speravo A quanto pare Noi A quanto pare Non è così Non è così Non si vede a mirono, non si vede a mali? Non ne vede a lavorare così importanti? Non si vede. Non si vede. Una figlia.... Non so... Non si vede a跟我 asi. Non si vede! Anche io le vede, e farò che sia tutto avケtime. Non è un problema, se c'è una vita di questo, non ... Tanto combatteremo, cioè, è inutile dirlo. Oh? Che era mia sorella, e l'altra? Solo in questo mondo, perché gli altri due non sono morti. No? No? Non c'è solo la mia moglie. Ettis... Mi ha pensato anche il stesso tempo. Ma... ...dia... 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 Se non è vero, è morto. Non lo so! Perché non lo so? Perché non lo so? Perché non lo so? E' la mia vita? E' la mia vita. Non lo so. Non lo so. E' la mia vita. Se non lo so, non lo so. E' la mia vita. E' una cosa. Che cosa cosa? Sono sempre più convinto della mia teoria. Del fatto che alla fine lei sia l'unione di lei e lui. E' la mia vita. Perchè? La mia vita è la mia vita. Ma non lo so. E' la mia vita. Sono sempre più convinto della cosa. Quindi ho fatto un'acchiaire. Mi sono riuscita, mi sono riuscita. E poi, mi sono riuscita. È molto difficile, è difficile, è difficile. È difficile. Ora, mi sono riuscita. È così. Mi sono riuscita. Ho riuscita, mi sono riuscita. Ho riuscita, mi sono riuscita. Tutti, pensate bene L'altro è quello che ha detto L'altro è quello che ha detto L'altro è quello che ha detto Ho capito però C'è qualcosa che non va in tutto ciò sai Continuo a pensare che ci sia qualcosa di sbagliato nonostante tutto Ovviamente che noi non dovremmo sapere Noi come giocatori O forse sì, vediamo No, non siamo dati di sapere Ok, grazie gioco E ora dovremmo affrontare Yukari e Mitsuru Andiamo A quanto pare le loro convinzioni erano quelle più forti La vera domanda che mi resta è Una volta che avremo sconfitto Yukari e Mitsuru Ovviamente gli altri quattro torneranno A quel punto chi avrà vinto, ovvero noi Potrà decidere effettivamente cosa fare Ma gli altri, quindi si parla di Mitsuru e Yukari e Ken e Sanada Saranno d'accordo effettivamente con la scelta che prenderemo Quindi uscire, lasciare le cose come stanno Oppure andare nella stanza O oppure il piano che si sono fatte loro tre senza farci sapere nulla Metterà tutti d'accordo? Scopriamolo subito Eccolo Sì, che cosa vuoi fare, Agis? Cosa vuoi fare? Non mi non mi ricordo ancora di più. Quindi non mi riuscita questa chiamata. Ah, certo. Mi ha capito di capire. Si, non mi riuscita. È un po' difficile, ma è un po' triste. Allora... Non si può cambiare le cose. Allora... Mi ha insegnato anche questa ragazza. Noi... Inoltre... E' proprio bene. L'ora di Aigis... L'ora del momento... L'ora di meca... Non mi sembra che non si tratta. Non mi sembra che non si tratta. Non mi sembra che sia così. Ma... Non mi sembra che sia così. Non mi sembra che sia così. Non mi sembra che sia così. E' proprio... Sì. Ho capito. Non mi sembra che sia così. Non mi sembra che sia così. Quindi... Siamo iniziando. E' proprio... Aigis. Non mi sembra. Non mi vado a perdere. ? Non mi sembra che sia così. Uno... Uh... Il primo? E' proprio proprio... Un'altra volta... Un'altra volta... Un'altra volta... Un'altra volta... Un'altra volta... È arrivato a questo punto, non ha neanche senso tenercelo da parte. Carichiamoci e concentriamoci. Ribadisco il mio disprezzo nei confronti di Fuka in questo momento. Che tra parentesi, queste battaglie effettivamente si potrebbero concludere tutte nello stesso modo. Ma mi sembra doveroso non farlo, è arrivato a questo punto, sai? Carichiamoci. Se solo Fuka fosse stata un pelo più utile, sai com'è? Carichiamo anche lei. Avesse fatto quello che doveva fare Fuka. Eh, lo so Yukari. Quanto ci fai che adesso ci congela? Brava, brava. Debilitiamo Yukari, che nonostante sia debole, potrebbe curare. Lei è la healer del gruppo, ovviamente. Non possiamo permettere distrazioni. Cos'è che aumenta le difese? No, diminuisce le nostre. Eh beh, cosa ti aspettavi? Sì che mi aspettavi invece che usasse la teurgia. Ops, mi spiace. Shiva. Questa volta non voglio trattenermi. Danno ingente a un nemico. Forse è stato anche esagerato. Ma è troppo bella sta animazione. 7800. 7800. Ho dovuto eliminare la healer subito. L'ho dovuto fare. Mi spiace. Mi spiace. Ma non potevamo lasciarla. Con la possibilità che curasse il gruppo. Diamond Dust. Mi spiace, Mitsuru. Cioè, davvero, credimi. Debilitiamo. Anche lei. Che così. Metis farà il suo lavoro. Tutto uno. Distruggi. Metis. Di poco. Quale delle due obili... Secondo me, usa la seconda. Secondo me. No, Megidolan addirittura. Brava Metis. Guarda. Solo proprio... Per farlo. Sciogliamo il ghiaccio della regina di ghiaccio. E non hanno usato neanche le teorgie. Cioè, pensa a quanto siamo stati bravi a sto giro. Il più difficile è stato proprio Junpei. Bravo Junpei. Cioè, davvero. Quindi ora dobbiamo lasciare le nostre chiavi per forgiarne una sola. Ecco appunto. No, in realtà è che non vuoi fare nulla e farei solo quello che faranno tutti, come al solito. Cioè, dammi la verità, Fuka. Non sei servita a niente, sto DLC, credimi. L'ultima chiave è stata forgiata. La vera chiave. E rieccoli tutti. Coromaru che sbadiglia. Non mi ne frega niente a lui. No, non è vero. Perché dovrebbe essere strano? Ovvio che non volevi che crepassero, no? Sì, sì. Però... Non... Non è vero? Non è vero? Non è vero? E... O... Ohi! Sì. 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 Non mi vuoi capire! Non c'è nessun modo! Non mi vuoi vedere prima, e mi vuoi essere un'altra? Mi ha giocato, ma mi vuoi prendere! Ma... è proprio male! Non mi vuoi essere un'altra! E' così... Come tutti, in sostanza. Ma ora ti ci sei buttata dentro. Ma ora ti ci sei buttata dentro. E' cominciato. Yucari, ma anche se non ti rispetteremo, non ci si trattaranno sempre le bifine. Allora... Se si trattaranno, non ci sono le bifine? Non ci sono le bifine, non ci sono le bifine, non ci sono le bifine, non ci sono le bifine. Non ci sono le bifine. Non ci sono le bifine! Non ci sono le bifine che conoscono! Ma... Eh, esatto, tutti gli hanno fatto una promessa Cioè se ci pensi alla fine, adesso non so, perché alla fine il DLC diciamo che si mette in un punto in cui è andato tutto nel migliore dei modi Hai preso tutti quanti i confident, ok, ma ovviamente tutti quanti hanno fatto una promessa al protagonista Hanno cercato di diventare la cosa migliore che potevano diventare Eh, esatto, vedi, lo dice anche lei, in sostanza è il momento in cui tutti hanno fatto il loro confident al massimo Beh no, dai, l'hai ringraziato tu, eh Sembra una confessione d'amore, Mitsuru Beh, sta ricambiando il favore qua, è carina come cosa, mi piace Sono sicuro che nella versione animata adesso Yukari le piangerebbe addosso e lei la abbraccia Perfetto, è esattamente quello che ho detto E ora si dispera ovviamente E ora si vedi Vuoi vedere che parla con... Allora, non voglio distruggere il momento. Quindi finirò prima di dire cosa sto per dire. Vuoi vedere che adesso vanno a parlare con Elisabeth o solo lei? Perché non so se gli altri possono interagirci. Non credo. Però... Anche Persona 4 e 5 alla fine. Margaret e la Venza si palesano davanti al resto della squadra. Ma a parte quello. Ma i capelli di Mitsuru che clippano all'interno di quel cazzo di mantellino. Quanto mi danno fastidio. In sostanza, torneranno nel passato per vedere cos'è successo e da lì decidere se cambiare o lasciare le cose così. È una bella scelta. Eh, esatto. Cioè, in realtà è quella la vera domanda. Quella del centro commerciale. Cioè, in sostanza vogliono cambiare da dove porta. E alla fine verrà lo stesso perché le vogliamo bene. Beh, non è che ne avevate scelta. Beh, non è che ne avevate scelta. Oh. Oh, che carina. Eh, effettivamente. Eh, effettivamente. Quale altro senso potrebbe avere? Eh, effettivamente. Beh, mi sa che non rimane molto tempo per i piani. Eh, esatto. È molto probabile. È molto probabile. Perché è onestamente fatto poco, Fuka. Resta una sola porta, la porta che conduce al centro commerciale e dobbiamo andare. Quindi, una volta entrati non potremmo più rientrare nel centro commerciale. È molto probabile. È molto probabile. È molto probabile. È molto probabile. Come di attraversare la porta, dobbiamo prepararci al meglio. Ma quindi, cioè... Ah, ok, no. Mi riporta al centro commerciale. Tranquillamente, allora. Ciao. 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 Ciao.